ciao a tutti e bentornati sul mio canale io sono Ornella e oggi vi voglio mostrare cosa ho acquistato a Lidl insieme alla solita spesa c'erano i prodotti greci e siccome è una cosa che ci piace molto ho voluto acquistarli, ora vi faccio vedere cosa ho preso allora parto subito dalle patatine perché le vogliamo assaggiare qua c'è scritto gusto giros non so come si dica le assaggiamo e vediamo che li fanno i bambini qui che stanno aspettando per mangiarle buone sono tipo di carne alla brace nachos sono tipo di nachos dice mio figlio ma sono veramente buone ragazzi prego buonissime si possono ricomprare mi piacciono poi ho preso le avevo già prese l'altra volta quando in realtà c'era di nuovo la parte greca sono queste qua fita allora questo qua è un tipo di pane ora ve lo leggo subito allora con aglio e coriandolo farina di frumento acqua, lievito, destrosio, sale, perzemolo, sciroppo di glucosio coriandolo, aglio, curcuma, olio vegetale aroma di coriandolo, miscela di spezie, acidificante tataratatatata ha una scadenza che è fino all'11 di agosto 2020 quindi l'11 agosto di quest'anno però devo dire che ce ne sono sei all'interno questi qua scaldati leggermente in padella tagliati con all'interno magari del pomodoro, della carne fare veramente tipo la pita greca che è come se fosse il kebab nostro cioè che conosciamo noi qua simile ma non uguale lì in Grecia li fanno veramente squisiti sono buonissimi li mando giù come niente e non sono grandi come i nostri che sono più o meno di questa dimensione sono un po' più piccolini però vi assicuro che sono veramente buoni se trovate qualche locale greco tipico vi consiglio di andare a prendere perché sono buonissimi comunque questo qua è un tipo di pane si può fare anche tipo panino comunque vi ripeto è buonissimo è speziato è proprio buono niente se lo preparo magari vi farò un video di cosa li metto all'interno non sono sicura perché il tempo che lo faccio qui si mangia e quindi quando prendo la telecamera in mano boh è già finito comunque ne ho presi due confezioni questi costavano circa su 1,10 euro 1,20 euro comunque è una spesa che si può fare questi sono veramente buonissimi quindi all'interno di quelli lì questa salsa qui questa salsa qui ha all'interno i pezzettini io l'ho già aperta l'ho già mangiata ha all'interno i pezzettini di cetriolo voglio far vedere perché veramente è leggerissima è bella compatta questa qua all'interno delle pita che vi ho fatto vedere prima è la fine del mondo veramente buonissima se voi mettete un po' di questa salsa all'interno di quelle pita lì una fetta di pomodoro una fogliolina di insalata io mi è capitato di non avere magari un petto di pollo da fare a straccetti così da mettere all'interno ho usato l'hamburger è vero che di maiale però avevo quello ho usato l'hamburger vi assicuro che è venuta una cosa spettacolare veramente buonissimo e di questo ce n'erano di due versioni c'è questo che è all'olio di oliva se non sbaglio sì e poi ce n'era un altro tipo che non ricordo com'era però non l'ho preso perché non lo so ho preso questo qua perché già lo conoscevo l'avevo già provato quindi questo poi questo qua questa confezione qui che c'è all'interno la feta la feta greca in salamoia quindi acqua e sale quindi c'è l'acquetta dentro ce ne sono due due pezzi grandi quanto questo qua e questo qua è un formaggio che si mangia molto in casa mia infatti a Lidl prendo spesso la feta greca il pezzettino costa 1,69 euro mi pare e ho trovato questa qui l'ho presa l'ho presa due confezioni però l'altra nel frigo e devo dire che è proprio buona è proprio formaggio greco una cosa che non ho mai provato nelle volte scorse che c'erano appunto questi prodotti qui e questo formaggio qua allora aprendola a odore di yogurt ha la forma così quadrata ed ha una consistenza tipo l'osella no come tipo la non lo so come si chiama quel formaggio rotondo morbido se voi avete provato questa fatemi sapere perché sono proprio curiosa di sapere anche cosa ne pensate voi io la feta la metto ovunque la metto nell'insalata la metto quando faccio le polpette ogni tanto gliela sbriciolo dentro a volte magari ha mangiato così a pezzi come formaggio fresco è buonissima veramente questo qua non lo so vi ripeto se l'avete provato fatemi sapere come si può utilizzare perché io non l'ho mai presa poi un'altra cosa nuova che ho trovato è lo yogurt questo qui allora volevo aprirlo con voi e vedere com'è allora all'interno della confezione ce ne sono 4 e qui dice che ci sono le more all'interno lo apriamo ma di more non c'è io non lo vado a cattino ah ok c'è tipo sotto tipo uno c'è tipo uno sciroppo alle more sotto e poi lo yogurt era gustoso lo mescoliamo sì sì sotto c'era tipo uno sciroppo io si vede anche qua dall'immagine c'è lo sciroppo poi fa vedere lo yogurt e fa vedere le more queste vi assicuro che all'interno dello yogurt non ci sono probabilmente c'è soltanto lo sciroppo gelatina marmellata non so cosa sia lo provo e vi dico come un attimo ancora il gusto le patatine non è male al sapore mi viene in mente il fruttolo il fruttolo quello dei bambini però no dai non è male è buono se vi piace il fruttolo vi piacerà anche questo sicuramente quindi yogurt approvato poi ho preso le spezie ce ne erano di tre tipi se non sbaglio ne ho presi due ho preso questa qua da usare come spezie per quando faccio la carne al forno ha un profumo buono sembra curcuma paprika all'interno ha allora sale ed erbe aromatiche per biftechi non so come si chiama comunque sono le polpette tipiche greche ci è scritto anche qua allora ingredienti sale da cucina aglio cipolla paprika santoreggia maggiorana curcuma cumino peperoncino piccante coriandolo zenzero pepe nero comunque io l'ho preso perché mi ispirava magari per quando faccio la carne al forno che sia mi piaceva questa qua l'avevo già presa tempo fa e ho provato a fare questa salsa qui la salsa taziki però devo dire che non mi piace come è venuta la salsa e quindi anche questa l'avevo usata per insaporire la carne al forno ed è buona gli dà un buon gusto anche i bambini gradiscono molto questa qui invece all'interno ha cipolle aglio zucchero pepe nero e gli acidificanti comunque le salse sono queste qua spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao